Buongiorno ragazzi e bentornati! Oggi parliamo di un argomento che mi appassiona ma che non viene quasi mai affrontato. Da sempre ho a cuore la sostenibilità, perciò volevo traslare questa mia propensione anche nel mondo fotografico. La sostenibilità fotografica è un argomento particolare e delicato, ma ho messo insieme alcune cose che ho imparato. Nella vita reale sto facendo un percorso di sostenibilità, perciò voglio condividere con voi alcune idee e accorgimenti per fare fotografi in maniera sostenibile. Ovviamente la cosa più sostenibile è utilizzare gli strumenti che già abbiamo in possesso ed eventualmente venderli o comprarli usati. La fotografia sostenibile non è solo una tendenza, ma un impegno continuo che può contribuire a costruire una comunità fotografica più responsabile e consapevole. Iniziamo con l'importanza di una corretta scelta degli strumenti. Fondamentale è utilizzare gli strumenti che già possediamo e considerare l'opzione di acquistare o vendere attrezzatura fotografica usata. Optate per apparecchiature, prodotte con materiali riciclabili e a basso impatto ambientale. La sostenibilità inizia dalla selezione del nostro equipaggiamento. Arriviamo ora al secondo punto, energia e alimentazione. Riduciamo l'impatto energetico delle nostre attrezzature fotografiche, scegliendo fotocamere a basso consumo energetico e utilizzando batterie ricaricabili. Inoltre optiamo per fonti di energia rinnovabile per alimentare i nostri dispositivi. Arriviamo alla postproduzione e all'archiviazione. Riduciamo l'uso di supporti fisici come stampe fotografiche, preferendo la conservazione digitale. L'archiviazione digitale non solo è più sostenibile, ma ci consente anche di risparmiare risorse preziose. Educazione e sensibilizzazione. Sensibilizziamo gli altri fotografi e il pubblico sull'importanza della fotografia sostenibile. Condividiamo le nostre esperienze e ispiriamo cambiamenti positivi nella comunità fotografica. Coinvolgiamoci in progetti fotografici che contribuiscano positivamente alla società e all'ambiente. La fotografia può essere una potente voce per il cambiamento e possiamo utilizzarla per promuovere progetti a impatto sociale. Ricorda che la fotografia sostenibile è un impegno continuo che richiede consapevolezza e azione. Utilizzare gli strumenti che già possediamo e considerare l'acquisto e la vendita dell'attrezzatura fotografica usata sono passi fondamentali. Adattare le pratiche fotografiche in modo sostenibile non solo beneficia l'ambiente, ma può anche contribuire a costruire una comunità fotografica più responsabile e consapevole. Spero che queste idee vi ispirino a fare la differenza nel vostro percorso fotografico. Se vi è piaciuto il video mettete like e seguimi per rimanere sempre aggiornato. Ci vediamo al prossimo video!